Cosa ha portato Flavio Montrucchio a Parigi insieme alla sua famiglia? Scopriamolo in questa notizia. Flavio Montrucchio, noto ex concorrente del Grande Fratello, è stato recentemente al centro dell'attenzione. Ma questa volta non per il suo anniversario di matrimonio con Alessia Mancini. Invece, ha fatto notizia per un successo sorprendente nel suo ruolo di conduttore televisivo. Il programma Primo Appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio e trasmesso su Real Time ogni martedì sera, ha registrato uno share superiore al 2%. Questo dato è particolarmente significativo se consideriamo la concorrenza televisiva del martedì, una serata ricca di opzioni per GLI spettatori. In termini numerici, Primo Appuntamento ha ottenuto una media di 414.000 telespettatori, con un picco massimo di oltre mezzo milione. Questo successo dimostra chiaramente la capacità di Flavio Montrucchio di intrattenere il pubblico e la popolarità del programma. Ma cosa ne pensate di questo risultato sorprendente? Qual è la vostra opinione su Flavio Montrucchio come conduttore televisivo? Per rispondere alla domanda posta nell'introduzione, Flavio Montrucchio e la sua famiglia sono volati a Parigi per un viaggio romantico in occasione dell'anniversario di matrimonio con Alessia Mancini. Si tratta di un anniversario importante da celebrare e Flavio e Alessia hanno scelto di farlo in modo speciale. Prima di continuare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Notizie Live Stream e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun aggiornamento sulle notizie e gli eventi più recenti. Manteniamoci connessi! Abbiamo visto il successo professionale di Flavio Montrucchio come conduttore televisivo, esaltando i risultati impressionanti ottenuti dal suo programma Primo Appuntamento, trasmesso su Real Time. I numeri indicano un'audience significativa e dimostrano che Montrucchio continua a essere un volto amato e apprezzato in TV. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci per altre notizie emozionanti. Ci vediamo presto!